Possono comprare i prodotti basta muffa separatamente? Risposta rapida alla TikTok, no! E se mi guardi fino alla fine di questo video ti spiego perché. Quando ho sviluppato questo trattamento, venivo da un'esperienza di vendita di vernici classiche da colorificio di tante marche. Quindi anche io, come racconto in tanti video, sono un ex venditore di vernici antimuffa pentito perché mi limitavo a vendere questi prodotti, speravo che il mio cliente li comprasse, gli davo il miglior consiglio, ma poi erano fatti suoi. Ho cambiato mestiere nel 2015 e ho fondato Basta Buffa, che è un'azienda che aiuta le famiglie che non hanno risolto con tutti gli altri a capire meglio come mai questo problema non si risolve e trovare una soluzione. Quindi io mi trovo davanti di solito persone che le hanno davvero provate tutte e sperano che il prossimo non li prenda in giro e gli dia una soluzione per davvero. Quindi per non fare brutta figura, visto che sulle latte dei miei prodotti c'è la mia faccia e vivo di reputazione, si fa un'analisi più o meno approfondita a seconda di quanto è grave il problema per capire se non ci stiamo mettendo in un brutto guaio. Quindi capire se chi ci chiama con la muffa in taverna ha magari l'umidità di risalita e se io gli vendo la mia favolosa vernice termica finale faccio brutta figura. Ora magari in colorificio tutte queste domande non si fanno e non si possono fare e a volte ci portiamo a casa dei prodotti ottimi ma sbagliati per la nostra soluzione. Ecco perché dal 2017 in poi al secondo anno di attività di basta muffa ho chiuso un e-commerce che mi permetteva di vendere da solo in automatico i miei prodotti per dedicarmi esclusivamente a diagnosi e risoluzione di problemi di muffa complicati, cioè non risolti dalle precedenti soluzioni. Quindi in conclusione se devo fornirti un pezzettino della mia soluzione che di per sé è un buon prodotto ma serve solo se unito agli altri farei soltanto brutta figura o rischierei un fallimento. La mia risposta quindi è se io posso effettuare un'analisi del tuo problema posso essere sicuro che questa analisi porta a una conclusione positiva allora posso fornirti i miei prodotti. In realtà poi l'analisi non ha un costo perché quello che viene anticipato viene poi scalato dal primo acquisto. Quindi alla fine compi un prodotto ma c'è un'azienda che ti accompagna per mano dall'inizio alla fine e ti dice guarda questa soluzione non è adatta per te scegliene un altro oppure sì ci puoi contare e ti guido fino alla fine con successo. Pochi casi ma buoni. Ecco perché mi occupo solo di emergenze e non di muffe quotidiane. Spero di averti dato una risposta e questo magari aiuta a fare un po' più di chiarezza sul perché sono qui su TikTok non cercando lavoro a strascico ma al massimo lanciare il mio messaggio per quelle pochissime famiglie che hanno un'emergenza di muffa e potrebbero avere bisogno di noi. Quindi no prodotto sfuso, prima analisi, diagnosi, cercare di capire perché questo problema si forma e poi si fornisce una soluzione accompagnata fino all'ultima pennellata. Questo è il mio mestiere. Ciao da Giuseppe e basta muffa!